Siamo oggi intervenuti al workshop sulla viticoltura di precisione per presentare degli strumenti VitiMapVitiges che sono strumenti di mappatura e monitoraggio a supporto della viticoltura di precisione e che si basano su tecniche di telerilevamento multispettrale termico, modellistica, analisi spaziale che vengono tutti questi dati integrati insieme a dati aziendali all'interno di un unico sistema di supporto decisionale che è fruibile direttamente in internet. Tutte queste metodologie tecniche sono state sviluppate e messe a punto in diversi progetti di ricerca a cui abbiamo contribuito negli ultimi anni. TerraSystem cura tutte le fasi di acquisizione dei dati, di elaborazione e restituzione delle informazioni. In pratica con VitiMapVitiges aiutiamo le aziende e le supportiamo nella ottimizzazione della gestione culturale del vigneto e a raggiungere quelli che sono gli obiettivi agronomici e enologici che vuole andare a conseguire. Attraverso l'utilizzo di queste tecniche andiamo a acquisire dei dati da piattaforme, da drone, da aereo, da satellite che poi vengono elaborate e ci permettono di realizzare in maniera, diciamo, con un processo di elaborazione semiautomatica delle mappe che sono appunto di vigoria, delle mappe di stress idrico, di omogenità e anche di restituire delle informazioni sul monitoraggio delle fasi di maturazione e che possono essere tutte queste informazioni poi utilizzate dagli utenti per effettuare lavorazioni meccanizzate radio variabili come concimazione, sfogliatura o la stessa vendemmia oppure più semplicemente utilizzate dall'azienda per effettuare degli studi, diciamo, di conoscenza e mirati alla gestione appunto della variabilità del vigneto. Con invece lo strumento VITIGIS che è un'estensione del modulo cartografico VITIMAP andiamo oltretutto a mettere a disposizione dell'azienda dei moduli che gli permettono di inserire dati aziendali come appunto l'anagrafica, come informazioni relativamente ai campionamenti della fase di maturazione e forniamo anche degli strumenti appunto di reportistica che permettono poi di andare a integrare questi dati e di fornire appunto degli strumenti di lettura e analisi alle aziende. Tutte queste, sia VITIMAP che VITIGIS, vengono, diciamo così, realizzate in base alle esigenze delle aziende e quindi vengono costruite in una maniera, diciamo, totalmente personalizzata in modo da soddisfare pienamente l'utente e andare a cogliere gli obiettivi che si era preposto. Questi strumenti sono pensati e sono utili soprattutto a aziende diciamo medio-grandi ma anche a organizzazioni di produttori, a consorsi e appunto cantine che hanno bisogno soprattutto di gestire molte unità avvitate in un territorio magari particolarmente ampio.